Ciao a tutti su TheTenna, oggi si gioca con David McRy 5 Stiamo usando D, andiamo avanti con la storia Si con la storia Questa è lì, non mi fio come adesso, adesso dovremmo sbloccare un po' tutto Eh no, la è, per me Ho fatto un bacio, qualcosa dentro Quindi, ecco le facce, no? Ah, io torna anche loro, i mostri qui, con le forbici Ehhh, madonna, che scenario Ah, io Come on Perché siamo un po' l'uccello, dai Possiamo anche la tigre, è una fan scura Pug! Questa è una spazio E' una spazio Questa è un po' l'albero ok Qua metto duemila non male Ah qua c'è qualcosa Mi danno le vite, cristalli, c'è sotto qualcosa Ah il telefono, si chiama, chiama Chiama Nico Mi ha sputato qualcosa Allora, questo è Euron Ah, continui sputando, piccola Allora, basta Bastardo Oh mamma mia che cammincino, eh figlio Oh mamma mia che cerchita Oh mamma mia che fuori Oh mamma mia che fuori Eh figlio Oh mamma mia che fuori Wow, si chiama che fuori non ci arrivo qua prendo qua la eh 5 e 9 per poco promotion eh che cazzo non lo prendi eh che questa lì è che c'è l'1 più cerchio ok bello bello trigger eh ma si riprendiamo griffon win diablo prendiamo questi grazie cara la signorita mi posso salire al mio nightmare eh madonna cazzo eh questa presenza è subito un boss la spada oh guarda come stanno guarda è davvero piaciuto quella spada eh nobodi nobodi la prendo quella spada spada mi piace essere adorato la besta come voi oh yeah maiii oh 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 ahhh manolo con tutto da via ahhh la monza Grazie a tutti. 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 No. 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 Siamo con una merda Mi piace in aria Siamo con una merda Siamo con una jumpa Sì, figo personaggio Un po' Chi ti ho fatto rosare? Un po' Diciamo, un airtime si può Con catenare tanto bene le mosse Sì, sì Pregate quando sono in minicennario Quello del genere, quando Togli altri, fare scatto Riesci meglio Ma con questo è un po' più difficile fare scatto Ti bocchi tutta la combo Vabbè, lo spendi tutte adesso Affanculo Vabbè Barzo, super Trigger, herd Più lungo Proprio salto, velocità Più lungo Million Bunton Eh vabbè L'ho spiegato Dov'ho spiegato Dopo che si vada a spiegare tutti Rivelo 2 Spiegato un po' tutto avrei dato una vita in più e avvi una barra in più anche dato che consuma un botto energia lui non ce la fai che è già subito consuma più dolce di te ah guardate ah poi i monstri la caos, la fuori dell'inferi ah 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 Sì, 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 sì. Sì, è rikido. Grazie a tutti a presto 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 a presto